Un caloroso buongiorno da parte di Chris Drake 512, ma qui dobbiamo andare dritti al sodo. Durante il Nintendo Direct che si è svolto tra il 23 e il 24 settembre, ovviamente data che cambia a seconda del fuso orario, hanno inaspettatamente annunciato Monster Hunter Rise Sunbreak. Penso di parlare a nome di tutti che nessuno si aspettava un annuncio del genere durante questo Nintendo Direct. Era molto più, come dire, prevedibile oppure anticipabile se lo avessero annunciato durante il Tokyo Game Show o magari anche molto più in là. Cos'è Monster Hunter Rise Sunbreak e che cosa sappiamo? Purtroppo sappiamo molto poco a riguardo, ma penso che possiamo provvedere a qualche informazione comunque importante. Monster Hunter Rise Sunbreak sarà un DLC di Monster Hunter Rise a pagamento che consiste in un'enorme espansione che includerà il G Master Rank in Monster Hunter Rise. Ormai questa pratica dell'espansione G Master Rank l'abbiamo vista più e più volte nella serie di Monster Hunter. In tempi recenti l'abbiamo vista su Iceborne, in tempi più addietro l'abbiamo vista su Generation Ultimate, nel passato l'abbiamo vista anche su Freedom Unite. Se Iceborne è stato venduto come DLC di Monster Hunter World che ha aggiunto il Master Rank, invece in passato queste espansioni venivano rilasciate come giochi separati. Nonostante venivano venduti come giochi separati, era comunque possibile importare i dati dalla loro controparte originale. Ad esempio, era possibile importare i dati da Generation su Generation Ultimate ed era possibile importare i dati da Monster Hunter Freedom 2 a Freedom Unite. Le uniche eccezionali regole sono state Monster Hunter 3 Ultimate e 4 Ultimate. 3 Ultimate per il semplice fatto che l'originale Monster Hunter 3 e 3 Ultimate erano su due console completamente separate e che ci sono stati dei notevoli cambiamenti tra i due giochi. Tra 4 e 4 Ultimate invece la questione è stata diversa per il semplice fatto che l'originale Monster Hunter 4 non è stato localizzato al di fuori del Giappone. Il fulcro di queste espansioni G Master Rank è quello di aggiungere un nuovo grado di difficoltà superiore all'alto rango nel gioco, che include nuovi mostri, nuovi comportamenti nei mostri, nuove armi, nuove armature e anche qualche novità dal punto di vista del gameplay. Piccola nota a parte, questo grado di difficoltà addizionale era sempre stato definito grado G fino a quando Monster Hunter Iceborne ha cambiato il nome in Master Rank, ma la difficoltà e il significato dei contenuti erano pressapoco paralleli. Ma noi cosa abbiamo tra le mani per quanto riguarda questo Monster Hunter Rise Sunbreak? Un brevissimo teaser trailer che però ci può dare spunti e riflessioni interessanti. Dal teaser trailer vediamo pochissimo in sé, vediamo solamente questo drago oscuro in questo edificio, in questa struttura abbandonata, e l'annuncio di una possibile finestra d'uscita per quanto riguarda questa espansione. Ma con la lente di ingrandimento, e forse anche con la mente di ingrandimento, possiamo osservare qualche spunto interessante. All'inizio del trailer possiamo notare che al di fuori dalle rovine si vedono un paio di mostri di piccole e medie dimensioni. Non sappiamo nient'altro a parte il fatto che sembrano due mostri completamente nuovi. Nel trailer possiamo vedere un Rathalos che per l'ennesima volta passa una brutta giornata, ma stupidata parte questo fa alludere che questo nuovo mostro, che analizzeremo successivamente, sarà molto più potente di un Rathalos. E siamo già giunti al momento di analizzare quel che possiamo vedere fino adesso del nuovo mostro e dell'ambientazione. Il protagonista del trailer è assolutamente questo drago, che dall'istruttura corporea potrebbe sembrare un drago anziano, con un aspetto molto dark, molto oscuro, e lo stesso si può dire per quanto riguarda il castello in rovina, anch'esso molto dark. Questo nuovo drago e l'ambientazione molto tetra fanno alludere molto al castello Shraid del Fatalis, che abbiamo visto su Iceborne, su Generation Ultimate, 4 Ultimate, Freedom United e via dicendo. Effettivamente le tematiche per quanto riguarda questi due draghi e le loro rispettive ambientazioni sono molto simili, ma attualmente non possiamo sapere se tutti questi elementi sono collegati in qualche modo per davvero. Per quanto riguarda l'aspetto, il design di questo nuovo drago, fa alludere molto ai pipistrelli e ai vampiri, ma anche al conte Dracula. Se non ricordo male, Dracula voleva dire Draco, ma tutti questi elementi qua da pipistrello, da vampiro, da conte Dracula, danno dei punti di riflessione alquanto interessanti. Avevamo notato in passato che i vari mostri nuovi di Monster Hunter Rise, come il Magnamalo, l'Aknos, il Tetranadon, il Gosaradio, il Raknakadaki e tanti altri, fossero fortemente ispirati alla folklore giapponese e agli yokai. Qui invece possiamo notare che questo mostro nuovo abbandona completamente questi elementi. L'ambientazione in cui vediamo questo nuovo drago nutre ulteriormente l'ipotesi che Sunbreak possa abbandonare i concetti e le ambientazioni giapponesi per tentare un approccio alla mitologia e alla folklore europea. Se questa teoria che Ransombreak possa avere una forte influenza folcloriana europea dovesse essere vera, sarà molto curioso vedere quali mostri nuovi che possono tirare fuori dal cilindro quale di Capco. L'ultimo spunto di riflessione che possiamo fare su questo trailer è che possiamo notare delle particelle rosso scuro che coprono alcune parti di questo nuovo drago. Queste particelle rosso scuro fanno pensare o all'elemento drago oppure al sangue, cioè volevo dire al liquido rosso che scorre nel nostro corpo. Indipendentemente che sia elemento drago oppure un qualcosa che rappresenta il sangue, cementa ulteriormente le tematiche oscuro-vampiresche di questo mostro. L'uscita prevista per quanto riguarda questa espansione di Monster Hunter Rise sarà in estate del 2022, simultaneamente su Nintendo Switch e su PC, Steam. E questo è tutto dal teaser trailer di Monster Hunter Rise Sunbreak, il resto delle informazioni ci troverà il cavale da vari social o dal sito ufficiale. I vari siti riportano che avremo novità su Monster Hunter Rise Sunbreak durante la conferenza Capcom del Tokyo Game Show 2021. Qui potrete vedere date e ora della conferenza. Qui è tutta roba già detta, questa ad esempio la conferma che Monster Hunter Rise Sunbreak uscirà contemporaneamente sia su PC per Nintendo Switch nell'estate del 2022. Anche qui espansione massiccia per Monster Hunter Rise con un nuovo grado, Gio Master Rek a seconda di come lo vogliono chiamare, nuove storie, nuove ambientazioni, nuove mostre, nuove azioni di caccia e via dicendo. Finiamo facendo una notazione simpatica ma interessante, si può notare come nei vari post che riguardano Monster Hunter Rise Sunbreak si vedono spesso delle emoji dei pipistrellini. E qui abbiamo detto tutto quello che si poteva dire per quanto riguarda novità e speculazioni di Monster Hunter Rise Sunbreak. Trovo alquanto strana la decisione di annunciare l'espansione G Master Rek di Monster Hunter Rise adesso, perché può essere un'arma a doppio taglio nel bene o nel male. Noi possiamo anche finire qua col video, forse ho anche detto fin troppo da una notizia così breve effettivamente. Noi ci sentiamo la prossima e che il boomcino vi illumini il cammino. Arrivederci!